G.F. Vip, Francesca Cipriani dichiara il suo interesse a Walter Nudo, lui in imbarazzo davanti alle forme prorompenti della showgirl. Il tanto atteso incontro tra Francesca Cipriani e Walter Nudo è avvenuto nella nona puntata del Grande Fratello Vip. Con un abito che ha messo in risalto il suo decollette, l'ex naufraga ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà e ha potuto finalmente incontrare l'uomo della sua vita, a cui ha espresso tutto il suo interesse e il suo apprezzamento. Dal canto suo Walter è risultato piuttosto imbarazzato, distratto dalle forme prosperose della bella Cipriani ed ha concluso l'incontro ringraziandola ma glissando il bacio che in molti chiedevano ed auspicavano. Francesca Cipriani pazza di Walter Nudo, si dichiara nella casa del GF Vip. Dopo un mese e mezzo finalmente Francesca Cipriani è riuscita ad incontrare Walter Nudo nella puntata andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5. La Cipriani a pomeriggio 5' aveva fatto un appello agli autori del reality per poter conoscere il concorrente, dichiarando apertamente di essere pazza di lui e la sua richiesta è stata finalmente esaudita. Ti seguo tutti i giorni da un mese e mezzo apostrofo ha dichiarato una emozionata Cipriani, che di fronte all'uomo della sua vita ha proseguito dicendogli quanto sia una bella persona e quanto secondo lei i due abbiano molte cose in comune. Mi piacciono anche l'aglio e la cipolla scherzosamente detto la showgirl al Jeffing. Walter Nudo distratto dal décolleté di Francesca, scusa se ogni tanto mi scappa l'occhio. Seduti su una panchina con la città di Parigi sullo sfondo, l'incontro tra Walter e Francesca prosegue, non senza imbarazzo, soprattutto da parte del concorrente del GF VIP, il quale rimane senza parole e poi improvvisamente le dice, ti sto ascoltando, ma se mi cade l'occhio perdonami, riferendosi al seno della Cipriani. Mi hanno fatto molto piacere le parole che hai detto dice l'uomo, il quale però evita elegantemente il bacio romantico che Larry e Alfonso chiedevano dallo studio. A chiudere il siparietto ci hanno comunque pensato la conduttrice Signorini tra i quali è scattato un lungo bacio in diretta tv. Dopo essere uscita dalla casa del grande fratello VIP e aver finalmente incontrato Walter Nudo, Francesca Cipriani su Instagram ha postato un messaggio, nonostante fossi emozionatissima, spero si sia capito che i miei sentimenti sono veri e puri, dichiarando tra le altre cose di poterlo conoscere fuori dal contesto televisivo e come ha concluso Francesca, se son rose fioriranno. .